Questo è il terzo video dedicato agli epiteli di rivestimento. Nei due precedenti ho prima descritto le caratteristiche generali dei tessuti e delle cellule epiteliali, poi ho trattato il tema degli epiteli semplici, cioè monostratificati, e di quelli pseudostratificati. Consiglio di guardarli prima di affrontare quest'ultimo che è dedicato agli epiteli pluristratificati. Se avete già visto i video precedenti, conoscete già questa tabella riassuntiva delle principali varianti di rivestimento epiteliale, categorizzate in base alla morfologia delle cellule direttamente affacciate in superficie e in base alla stratificazione. Come vedete ho suddiviso il tema degli epiteli rivestimenti pluristratificati in due gruppi distinti, separando quelli formati esattamente da due strati rispetto agli altri in cui il numero di strati è variabile. Dobbiamo quindi esaminare le quattro varietà di rivestimento pluristratificato che si osservano più di frequente. Quelli formati da molti strati occuperanno la gran parte di questo video, mentre questi due possono essere trattati abbastanza rapidamente e lo facciamo subito. Un buon motivo per iniziare proprio da quest'ultimo è che dal punto di vista funzionale non è poi così diverso da un epitelio che avevamo già osservato nel video precedente, che è l'epitelio isoprismatico semplice che riveste molti dotti ghiandolari e scretori e che nei dotti di calibro maggiore raddoppia la stratificazione. In entrambi i casi il rivestimento funge essenzialmente da condotto per il passaggio passivo del prodotto di secrezione della ghiandola, per esempio saliva o sudore. In qualche caso lo strato superficiale assume morfologia colonnare, come si vede bene in questo dotto iscrittore di grosso calibro. Qui le cellule basali sono isoprismatiche, mentre quelle superficiali sono chiaramente colonnari e quindi l'epitelio è definito pluristratificato colonnare. Con questo possiamo chiudere la breve pratica sugli epiteli a due strati che, ripeto, anche se ufficialmente sono pluristratificati, considero funzionalmente vicini agli epiteli semplici che rivestono condotti attraverso cui passano certe sostanze. Ora ci dedichiamo invece agli epiteli caratterizzati da un numero di strati superiore a due, un numero in realtà variabile a seconda dello specifico contesto. La variante decisamente più abbondante nel nostro corpo è questa, l'epitelio pavimentoso pluristratificato. Ora la premessa fondamentale dell'intero capitolo è che queste epiteli hanno una funzione essenzialmente protettiva, servono a creare una netta separazione tra i tessuti rivestiti dall'epitelio e l'ambiente circostante. Perché grazie alla stratificazione il tessuto è decisamente più robusto, adatto a sostenere sollecitazioni meccaniche di vario genere come tagli, abrasioni, lacerazioni, eccetera. Poi rappresenta un'efficace barriera contro l'invasione da parte di molti microorganismi e poi anche la diffusione di liquidi assoluti attraverso il tessuto è fortemente ridotta, è molto contenuta. Possiamo quindi attenderci di riscontrare questo tipo di tessuto lungo le superfici maggiormente esposti ai pericoli del mondo circostante per così dire. Date un'occhiata a questa lista perché poi alcuni esempi concreti li mostrerò a breve. Prima però la stratificazione del tessuto ha una serie di interessanti implicazioni generali, indipendenti dalla particolare localizzazione dell'epitelio. Innanzitutto i rivestimenti epiteliali sono tessuti soggetti più o meno costantemente al rinnovamento grazie alle mitosi che permettono di sostituire le cellule che via via si staccano dall'epitelio e vengono eliminate. Negli epiteli pluristratificati come questo le divisioni cellulari sono a carico dello strato basale, cioè aderente alla membrana basale e per questo motivo questo strato è anche detto germinativo. Vi faccio vedere un esempio di cellula catturata in prossimità della metafase della mitosi e vedete questa struttura densamente colorata rappresenta i cromosomi disposti lungo la piastra equatoriale pronti per la suddivisione poi nelle due cellule figlie che avverrà a breve. E qui possiamo constatare che questa cellula in divisione si trova effettivamente nello strato basale, cioè in prossimità del connettivo. Ora cosa succede a questa cellula in divisione? Devo un po' semplificare ma possiamo dire che mentre una delle due cellule figlie rimarrà a contatto con la lamina basale l'altra se ne separerà ed entrerà a far parte del secondo strato. Da qui in avanti man mano che proseguono le mitosi nello strato germinativo quest'ultima sarà sospinta verso la superficie. Lungo il percorso la morfologia della cellula si modifica prima crescendo di dimensioni poi appiattendosi progressivamente. Il citoplasma diventa più pallido, il nucleo più piccolo e condensato. Questi sono segni che la cellula assume progressivamente un assetto di riposo di quiescenza. Quindi la sintesi proteica è ridotta così come è ridotto in generale il metabolismo. Inevitabilmente arriva un momento in cui la cellula si distacca dal tessuto e si perde ma questo avviene a un ritmo che in condizioni fisiologiche è esattamente identico a quello delle divisioni mitotiche. Prima di lasciare questa immagine avete notato che qui il connettivo sembra spingersi verso la superficie del tessuto provocando un po' uno schiacciamento dell'epitelio sovrastante. Questo fenomeno si osserva regolarmente negli epiteli pluristratificati e vi faccio vedere un paio di immagini molto suggestive in tal senso. Come vedete lo strato basale di questi epiteli traccia una linea sinuosa dando origine a evidenti interdigitazioni formate da un'alternanza di creste epiteliali e espansioni connettivali che sono dette papille. Ci sono almeno due buoni motivi per giustificare questa organizzazione. Primo aumenta l'estensione della membrana basale e di conseguenza aumenta anche la tenacia dell'adesione tra epitelio e connettivo e questo grazie anche alle strutture di giunzione come gli emidesmosomi che qui ovviamente non sono visibili ma che dobbiamo immaginare regolarmente distribuiti su tutta la superficie. Secondo queste interdigitazioni favoriscono l'apporto dei nutrienti alle celluli epiteliali nonché anche le rimozioni dei prodotti di metabolismo. Perché? Che problema di approvvigionamento hanno le cellule epiteliali? Per capire questa cosa dobbiamo prendere atto di un fatto importante. Gli epiteli sono tessuti avascolari. Non importa lo spessore, non importa con quanta pazienza cerchiamo, negli epiteli non ci sono vasi ematici. I vasi si osservano invece nel connettivo, cioè al di là della membrana basale. Di conseguenza l'apporto di ossigeno e nutrienti delle cellule epiteliali, così come la rimozione dei prodotti del metabolismo, avviene necessariamente per diffusione attraverso tutti gli strati cellulari interposti. E allora è chiaro che queste interdigitazioni facilitano la vista al tessuto, diminuendo la distanza fra i capillari e le cellule epiteliali. Nonostante ciò si capisce che più si va verso la superficie e più rallentano le funzioni biologiche delle cellule, come segnalato anche dalla progressiva compattazione del nucleo e altri segni citologici. Gli esempi di tessuto pluristratificato squamoso che vi ho fatto vedere finora rivestono le mucose di certe cavità interne comunicanti con l'esterno. In particolare sono le cavità che necessitano di maggiore protezione meccanica. Per esempio, cavo orale, faringe ed esofago rappresentano la via di passaggio per il cibo. E questo è sufficiente a giustificare la presenza di un epitelio spesso, che si può anche permettere di perdere le cellule superficiali senza per questo scoprire il connettivo sottostante. Ora, proprio l'esofago è un ottimo esempio in tal senso perché... vediamo perché. Notate l'elevato spessore del tessuto e immaginate invece l'effetto disastroso che potrebbe avere il passaggio di un corpo estraneo, come un pezzetto di osso magari ingerito per sbaglio, su una mucosa rivestita da un epitelio semplice, formato da un singolo strato di cellule come questa in sede basale. Lacerazioni e emorragie interne sarebbero all'ordine del giorno. Quindi è una buona cosa avere tanti strati di protezione in certe sedi. Ho tale proposito, ho appena usato il termine mucosa per indicare la parete di quest'organo, ma a pensarci bene la definizione può un po' disorientare perché il termine mucosa descrive un rivestimento di cavità interna sulla cui superficie può essere presente muco, appunto. Ma un epitelio pluristratificato pavimentoso come quello di questo esofago non sembra adatto a secernere muco. Ricordate che le cellule mucipare hanno una morfologia colonnare, hanno bisogno di un discreto volume per poter sintetizzare, elaborare e accumulare le mucine, certamente molto diverse da queste cellule appiattite. La soluzione del problema è che negli strati più profondi di queste pareti sono presenti vere e proprie ghiandole come questa, il cui prodotto è convogliato alla superficie tramite un dotto escretore. Quindi in certi organi cavi il muco è prodotto dalla cellulina mucipare intercalata nel rivestimento epiteliale, mentre in altri la stessa funzione è svolta da ghiandole a sé stanti. Ripeto ancora, tutti questi epiteli pavimentosi stratificati rivestono le superfici mucose di cavità interne comunicanti con l'esterno. Approfitto di questa panoramica per un'ultima annotazione sul tema. Vedete che gli strati più basali di tutti questi epiteli hanno una colorazione più intensa, principalmente basofila. A maggior ingrandimento si intuisce che il gradiente di colorazione dipende da almeno due fattori. Uno, il citoplasma delle cellule più profonde mostra un certo grado di basofilia diffusa, presumibilmente legata alla presenza di abbondanti ribosomi, una basofilia che tende a svanire nel tempo, cioè lungo il lento spostamento della cellula verso la superficie. Due, che io trovo più intrigante, è il fatto che i nuclei, ovviamente basofili, appaiono più ravvicinati, il che implica necessariamente che il numero di cellule per unità di volume sia maggiore. Attenzione perché qui c'è una possibile trappola. Si potrebbe essere tentati di dire che qui le cellule sono più distanziate tra loro. Ma bisogna sempre ricordare che negli epiteli le cellule mantengono stretti rapporti reciproci, lasciando solo un sottile interstizio tra le membrane appaiate. Quindi un modo più appropriato di descrivere il quadro è che col passare del tempo le cellule aumentano di dimensione, principalmente attraverso l'aumento di volume del citoplasma. In tal senso è ovvio che le cellule appartenenti allo strato germinativo siano anche le più piccole, essendo nati più di recente. Ma attenzione, cosa manca da questa rassegna? Quale tessuto è vistosamente assente dall'insieme degli epiteli pavimentosi pluristratificati mostrati qui? Non c'è bisogno di dirlo, si tratta dell'epidermide, che può essere considerata una forma specializzata di questo tipo di epitelio. È un tessuto molto interessante, degno di attenzione dedicata, quindi vediamo. Questo è un campione di epidermide che, come gli altri epiteli, poggia su un connettivo ovviamente. Per inciso, in questa sede il connettivo ha un nome a sé stante, si chiama derma. Anche qui si osservano papille connettivali che, guarda caso, sono note come papille dermiche. Ma la caratteristica distintiva di questo tessuto è la presenza in superficie di uno strato corneo, cioè formato da cellule non più vitali. Per questo motivo la definizione completa del tessuto è piuttosto pomposa. Epitelio, pavimentoso, pluristratificato, corneificato. Ancora più in particolare, questo è un preparato di epidermide cosiddetta sottile, termine che fa riferimento allo spessore proprio dello strato corneo. Ora in vivo questo strato è robusto, ben aderente al tessuto sottostante, ma nella preparazione istologica tende a essere labile. Facilmente appare sfibrato, desquamato, talvolta si distacca completamente dal resto dell'epidermide, rendendo un po' più complicata la descrizione del tessuto. Ciò premesso, l'epidermide sottile riveste la maggior parte della superficie corporea, con le importanti eccezioni del palmo della mano e della pianta del piede, dove invece si osserva la cosiddetta epidermide spessa. Voglio enfatizzare la differenza tra queste due varianti, per cui ecco un altro campione di epidermide sottile, messa direttamente a confronto con un preparato di epidermide spessa, osservata però al medesimo ingrandimento. La gran parte della differenza di spessore si deve allo strato corneo, che qui è davvero imponente, rispetto a quello relativamente inconsistente dell'epidermide sottile. Guardiamo ora più da vicino l'epidermide, perché ci sono diversi interessanti dettagli da trattare. Innanzitutto, ecco di nuovo il derma, il connettivo su chi poggia l'epidermide. L'alternanza di creste epiteliali e papille dermiche è particolarmente pronunciata e, anche se non visibile in questo tipo di preparato, la membrana basale separa il derma dallo strato basale dell'epidermide. Lo strato basale è sormontato da un numero variabile di strati cellulari che, nell'insieme, formano il cosiddetto strato spinoso. E fra un minuto vedremo perché si chiama così. Lo strato spinoso lascia il posto al sottile strato dei granuli e, per finire, ecco lo strato corneo, che in questo caso è di dimensioni notevoli. Quando l'epidermide è molto spessa si osserva talvolta un sottile strato lucido alla base dello strato corneo. Su quest'ultimo aspetto non mi soffermerò. Ok, questa è la panoramica dell'intero tessuto, ma ora entriamo nel dettaglio. Non c'è bisogno di tornare sullo strato basale. Osserviamo invece con attenzione lo strato spinoso, in un altro preparato di epidermide spessa. Qui vicino a me c'è la superficie basale, mentre all'angolo opposto c'è lo strato corneo. Guardiamo da vicino alcune cellule cosiddette spinose. Allora, come vedete, sono poliedriche, hanno un nucleo tondeggiante eucromatico, che è caratteristico di cellule in attività biosintetica, insieme anche al nucleolo ben evidente. Ma soprattutto osservate l'aspetto peculiare dell'interstizio tra le cellule adiacenti. Lo spazio extracellulare ha una colorazione più pallida, ma è come interrotto da numerosi minuscoli trattini trasversali. Vi faccio vedere un'altra immagine dove questo stesso reperto è particolarmente ben visibile. Di nuovo, questo è lo strato basale, che poggia sul tessuto connettivo, cioè il derma, ed ecco lo spesso strato spinoso. Man mano che le cellule sono sospinte verso la superficie, l'aspetto zigrinato dell'interstizio si fa sempre più marcato. Tanti minuscoli ponticelli che mettono a diretto contatto le cellule adiacenti, attraversando una sorta di fossato, cioè il sottile spazio extracellulare. Il microscopio elettronico rivela che tali ponti rappresentano altrettante piccole estroflessioni citoplasmatiche, dette appunto spine, che terminano congiunzioni intercellulari. Dunque, le cellule vicine sono effettivamente ancorate tra loro a livello delle spine. Fate caso alle immagini filamentose elettrondense che originano dalle giunzioni e si addentrano nel citoplasma. Sono parte del citoscheletro della cellula, come mostrato anche in questo schema. E allora, le giunzioni sono essenzialmente desmosomi e quindi il citoscheletro in questione non può che essere rappresentato da filamenti intermedi. Filamenti intermedi qui visibili in verde marcati selettivamente tramite immunofluorescenza. Resta ora solo un punto da chiarire. La proteina che costituisce questi filamenti intermedi è la cheratina e le cellule dell'epidermide si chiamano cheratinociti. E allora riassumendo, i filamenti intermedi di cheratina attraversano il citoplasma e terminano ancorandosi a tesmosomi che sono a distanza l'uno dall'altro. Il risultato è una solida rete tridimensionale tranacellulare che stabilizza la morfologia non solo della cellula ma anche dell'intero tessuto. I cheratinociti sono quindi impegnati nella costruzione della loro robusta impalcatura citoscheletrica. Questo man mano che vengono sospinti verso la superficie dell'epitelio in seguito alla proliferazione a livello basale. A un certo punto però si assiste a un brusco cambiamento a carico di queste cellule con la comparsa dello strato dei granuli. Ora quello che succede da qui in avanti è piuttosto complesso, io lo tratto in estrema sintesi accennando però a tre eventi principali. Il primo è quello ben visibile al microscopio ottico, si tratta appunto della comparsa di granulazioni citoplasmatiche fortemente basofile, i cosiddetti granuli di cheratoialina. La cheratoialina contiene aggregati proteici tra cui spiccano la filagrina e la tricoialina. Si tratta di proteine associate al citoscheletro? Si distribuiscono le citoplasme e contribuiscono all'organizzazione della cheratina. Ora semplificando, filagrina e tricoialina fanno come da ponte tra singoli filamenti intermedi stabilizzando la rete tridimensionale. I granuli di cheratoialina sono citosolici, cioè non sono circondati da membrana come invece granuli di secrezione. Si dissolvono man mano che le componenti si distribuiscono nel citoscheletro e di conseguenza nello strato corneo non sono più visibili. Ma il cheratinocita possiede anche vescicole di secrezione e questo è il secondo aspetto da trattare. Queste vescicole provenienti dal Golgi sono dette corpi lamellari per via della loro organizzazione interna che peraltro è visibile solo a microscopio elettronico. I corpi lamellari contengono un'ampia varietà di sostanze. Prevalentemente si tratta di lipidi, ma sono presenti anche numerosi enzimi. Le vescicole sono secrete per esocitosi lungo la superficie di passaggio tra lo strato dei granuli e lo strato corneo. In sede extracellulare il loro contenuto viene organizzato in modo da formare uno strato lipidico impermeabile all'acqua. Questo è decisamente importante, anzi è indispensabile, per limitare la diffusione di sostanze estranee all'interno del corpo e al contempo per controllare l'equilibrio idroelettrolitico dell'organismo. E a proposito di quest'ultimo ruolo, per rendersi conto dell'importanza di questo freno alla fuoriuscita di acque assoluti attraverso l'epitermide, basta pensare alle gravi conseguenze delle ustioni estese a carico del tessuto, con la perdita incontrollata di liquidi causata proprio dalla mancanza di questa protezione. Il terzo e ultimo evento a carico dello strato dei granuli che vi descrivo è il differenziamento terminale del cheratinocita, con la transizione dalla forma granulosa a quella cornea. Il fenomeno è descritto come una forma particolare di apoptosi, perché la compattazione successiva scomparsa del nucleo e degli altri comparti membranosi sono tipici dell'apoptosi, ma a differenza di ciò che si osserva nei casi più tipici di morte cellulare programmata, il cheratinocita non si frammenta, non viene eliminato subito. Mantiene invece integro il plasma lemma e quindi la sua identità di cellula, anche se non più vitale. Bene, i cheratinociti ora appartengono allo stratocorneo, qui sono mostrati nella variante spessa, ma le stesse considerazioni valgono anche per l'epitermide sottile. Sto semplificando, ma ecco alcuni punti fermi. Le cellule sono prive di organelli, ricchissime di proteine citosoliche e di giunzioni intraccellulari e circondate da un involucro molto organizzato con una forte componente lipidica. Cerco qui di riassumere i passaggi principali in forma schematica. Allora, nello strato spinoso spiccano l'attività di sintesi di filamenti di cheratina e la loro inserzione sui desmosobili, indispensabili per l'adesione con le cellule circostanti. Nello strato granuloso ha luogo la formazione della cheratoialina, le cui componenti sono successivamente rilasciate e si distribuiscono a tutto il citoplasma, dove catalizzano l'unione dei filamenti di cheratina in aggregati, detti tonofibrille, che poi costituiranno la solida impalcatura citoscheletrica nello strato corneo. Sempre nello strato dei granuli, ecco il corpo lamellare in cui si accumulano le componenti che, in seguito a isocitosi, andranno a formare la barriera impermeabile all'acqua, al confine tra lo strato dei granuli e quello corneo. Vi segnalo infine che anche la desquamazione delle cellule più superficiali sembra essere un processo altamente regolato, probabilmente attraverso l'indebolimento dei desmosomi, un meccanismo che evidentemente facilita il distacco e la eliminazione del cheratinocita. Finora ho parlato solo di cheratinociti, ma nell'epidermide sono presenti anche altri tipi cellulari che meritano un breve cenno. Cominciamo da questa osservazione. Guardiamo con attenzione lo strato basale di questo campione di epidermide sottile. È facile notare la presenza di una colorazione inconsueta, una tinta brunastra concentrata agli strati più basali del tessuto. In base al colore non può essere né matossilina né osina. E in effetti non si tratta di un colorante istologico, ma di una vera e propria pigmentazione, cioè una componente tessutale dotata di colore proprio. Probabilmente non c'è neanche bisogno di precisarlo. Il colore bruno si deve alla presenza di melanina, una sostanza che è prodotta in grandi quantità da cellule specializzate che sono i melanociti. Ora, il melanocito è una cellula peculiare. Inizialmente lascio un po' sorpresi. Lo vedete il perché? Bene, il citoplasma di questa cellula è decisamente pallido a confronto con i cheratinociti circostanti. Ma allora la melanina dov'è? Per comprendere il motivo di questa stranezza ecco uno schema di melanocito incastonato tra i cheratinociti dello strato basale. Come suggerito dal disegno, la melanina viene prodotta e accumulata in granuli nella parte centrale della cellula, in prossimità di reticolo e golgi, ma in questo stadio sono ancora immaturi e incolori. I granuli sono poi trasferiti lungo prolungamenti citoprasmatici che si insinuano tra cheratinociti adiacenti e qui vanno incontro a un processo di maturazione che si completa una volta raggiunta l'estremità del prolungamento. A questo punto la melanina ha effettivamente acquisito la caratteristica pigmentazione ed viene ceduta ai cheratinociti circostanti che la inglobano. Alla fine di tutto la melanina tende ad essere particolarmente concentrata intorno al nucleo. È un fatto considerato importante nel ridurre la probabilità di mutazioni a carico del DNA indotte da raggi ultravioletti. Per la verità il preciso meccanismo citologico attraverso cui la melanina viene effettivamente ceduta al cheratinocita non è del tutto chiarito. I libri di testo tendono a essere un po' sbrigativi nella descrizione e come vedete da questo schema tratto da una pubblicazione scientifica proprio dedicata all'argomento. Sono attualmente allo studio ipotesi diverse e io francamente non vi so dire se dalla data di uscita di questo articolo è stato poi raggiunto un consenso tra gli esperti in materia, tra gli specialisti. C'è poi da accennare alla presenza di una popolazione piuttosto nutrita di cellule che in realtà non sono epiteliali. Si tratta delle cosiddette cellule di Langerhans che appartengono alla ampia famiglia dei fagociti mononucleati e che oggi sono considerate a tutti gli effetti macrofagi. Non è per nulla facile riconoscere le cellule di Langerhans in una normale ematossilina eosina ma è possibile identificarle con certezza tramite marcature selettive come questa. Non mi dilungo sui dettagli tecnici ma vedete che la colorazione mette in evidenza morfologia e anche la numerosità di queste cellule macrofagiche. Sono ovviamente cellule impegnate nella difesa immunitaria e a loro riguardo ci sono ancora molte incognite, molte cose ancora da scoprire. Da ultimo un brevissimo cenno alla cellula di Merkel che come il melanocito si trova solo nello strato basale e funziona come recettore tattile. Cioè in seguita stimolazione meccanica la cellula di Merkel è in grado di attivare i terminali delle fibre nervose che conducono lo stimolo fino al sistema nervoso centrale. Con l'epidermide si conclude la panoramica dei tessuti epiteliali pluristratificati pavimentosi e a questo punto rimane un solo tipo di rivestimento epitelale a trattare. Questo tessuto che avevo caratterizzato come variabile dal punto di vista della morfologia cellulare. Si tratta del cosiddetto epitelio di transizione che è detto anche urotelio dato che riveste la cavità di buona parte delle viurinarie. L'esempio tipico in tal senso è la vescica urinaria. In questo preparato è visibile un piccolo frammento di parete. L'aspetto più caratteristico del tessuto è rappresentato da questo strato superficiale di cellule che sono voluminose. Notate che ciascuna di esse poggia su diverse cellule sottostanti. Talvolta sono binucleate e soprattutto hanno una morfologia appunto molto variabile. Per la verità anche le cellule degli strati sottostanti sono soggette a una certa variabilità ma questa morfologia non è una proprietà intrinseca della singola cellula ma piuttosto una conseguenza dello stato funzionale dell'organo. La vescica urinaria è infatti soggetta a più cicli quotidiani di distensione e rilassamento in seguito al suo svuotamento. L'epitelio della vescica piena appare così con le cellule superficiali appiattite e quelle sottostanti di forma irregolare è disposto in un numero modesto di strati. Mettiamo a confronto questo aspetto con questo dietro di me. Cioè quando la vescica è vuota le cellule superficiali assumono una forma globosa spesso definita a ombrello e anzi l'intero epitelio appare più spesso. Questo si deve al fatto che le cellule degli strati sottostanti assumono una forma affusolata deformata in direzione baso apicale. In forma schematica questo è l'aspetto dell'epitelio prima per così dire e questo invece l'aspetto del tessuto dopo questa transizione cioè con la parete rilassata. Grazie a tutti.